Nella risoluzione dei conflitti internazionali è importante il dialogo e la promozione di un'educazione attenta al prossimo e alla diversità. È stato ribadito nel corso dell'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica dell'Azerbaijan. La Sala Stampa Vaticana ha reso noto inoltre che nel corso dell'udienza è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo dei rapporti bilaterali e ci si è soffermati su temi riguardanti la vita della comunità cattolica nel paese, oltre che su alcune iniziative in ambito culturale, rilevando il valore nel mondo contemporaneo del dialogo interculturale e interreligioso per favorire la pace.